Buongiorno e bentrovati sul canale, iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche, interagite, commenti, like, insomma fate quello che volete. Oggi devo andare veloce perché ho tanti aggiornamenti sulle notizie da darvi ma credo sia necessario e giusto anche riproporre alcuni estratti della giornata di ieri perché personalmente ho vissuto una delle giornate più belle di questa estate a tinte bianconere che ho trascorso al lavoro e anche con grandissimo piacere al servizio di chi ha tutto il diritto di essere informato correttamente rispetto a quello che mi risulta con le verifiche dovute su tutti gli aspetti. Io credo ieri sia stata una giornata bellissima perché in attesa di Copminers ho vissuto personalmente posso testimoniarvelo il grandissimo calore della tifoseria bianconera, una tifoseria che ancora una volta dimostra di saperci essere e anche di capire i momenti. In questo precampionato abbiamo vissuto diversi momenti in cui la presenza del tifo ha fatto la differenza e ognuno deve fare la propria parte. Io personalmente qui ho il dovere adesso di riportarvi un po' all'equilibrio perché mi pare negli ultimi giorni, nelle ultime ore in particolare ci sia il rischio di perdere di vista il bello, anzi bellissimo, lo straordinario che è stato fatto da parte della Juventus grazie al lavoro di Cristiano Giuntoli e dei suoi collaboratori perché negli ultimi giorni sono arrivati tre obiettivi principali del mercato della Juventus, sono arrivati Nico González, Francisco Concesao e dunque Thorne Coopminers. Ora dobbiamo sì, giustamente continuare a vivere quest'ultimo finale di mercato dove c'è un obiettivo, c'è ancora un obiettivo che è quello di Sancho, ma non dovesse arrivare Sancho. La Juventus ha fatto comunque un mercato da 10 per tutto quello che ha portato a termine tra entrate e uscite con un budget iniziale di 40 milioni, cioè il pass alla Champions League con una serie di sacrifici che ha dovuto fare affinché le casse abbiano avuto l'ossigeno necessario per portare avanti nelle varie fasi del mercato tutti i discorsi intavolati però obiettivamente la Juventus ha fatto grande quest'estate e credo ci sia stata una rivoluzione degna di nota che oggi consente a tutti i tifosi bianconeri di sognare una Juventus in grande stile. Nel frattempo l'allenatore e i suoi collaboratori hanno fatto un lavoro straordinario sul campo, è una Juve ben diversa, nuova quella che si sta proponendo. Per mentalità, ancora prima che per filosofia di gioco, parliamo di mentalità che è quella che da un po' di tempo a questa parte mancava non alla squadra, a tutto l'ambiente perché più volte mi sono ritrovato a raccontare un ambiente spezzettato, un ambiente in cui c'erano troppe divisioni. Adesso torno a respirare un ambiente unito e credo l'ambiente Juve unito possa fare la differenza sempre comunque e in qualunque circostanza, su qualunque campo, su qualunque situazione ci si possa ritrovare. Gli aggiornamenti su Sancio ve li do perché è giusto darli nella giusta misura, perché nelle ultime ore in giro ho letto di tutto è fatto un bel niente, perché oggi la Juventus deve ancora dare continuità ad una serie di situazioni. Anzi, facciamo così, ieri ho intercettato Federico Chiesa alla partenza da Torino in direzione Liverpool. Credo il ragazzo abbia dato anche un messaggio molto bello ai tifosi della Juventus ed è giusto ascoltarlo ed è giusto ringraziarlo per quello che ha dato per la maglia bianconera. Vi lascio con l'estratto di Chiesa, poi torniamo perché ho da darvi tutte le notizie di mercato. Ciao Federico, sei pronto a iniziare questa nuova avventura? Sì, sono felicissimo, davvero, grazie. Volevo salutare i tifosi bianconeri, grazie per l'affetto, per questi anni, veramente vi porterò nel cuore e grazie alla Juventus. Ti spiace un po' lasciare la Juve così? No, dispiace ma sono veramente felice per questa nuova avventura, davvero. Sono davvero felice, non vediamo l'ora, io e la mia famiglia. Grazie, un po' calupo. Ecco, Chiesa, Liverpool porta alle casse della Juventus 12 milioni più 3 di bonus. Con questi 12 milioni la Juventus evita la minusvalenza. Dopodiché Chiesa con la cessione e quindi l'interruzione del rapporto prima della scadenza al 2025 genera un risparmio di circa 12 milioni che sarebbe stato l'ingaggio all'ordo che, insomma, la Juventus doveva riconoscerli appunto per ai fini del contratto. Questa somma la Juventus è in grado di spostarla su un altro colpo. La situazione Sancio è la seguente. Il Manchester United lo cede in prestito senza alcun obbligo di riscatto ed è ben consapevole di dover partecipare a buona parte dello stipendio considerato che Sancio guadagna circa 20 milioni in un anno. Qual è il rischio in questa fase? Ve l'ho già detto. La Juve oggi è in pole per Sancio. C'è il rischio però che un altro club si presenti a margine della chiusura del mercato con una proposta più allettante per il Manchester. È il motivo per cui in questo momento gli inglesi non è che stiano spingendo per cedere il giocatore. Stanno prendendo tempo ad una prima proposta della Juventus che ieri pomeriggio nelle call che ci sono state tra la continassa e il Manchester United la proposta è stata bassa ma semplicemente perché non vai all-in pronti via subito. Devi anche tenerti un po' di margine affinché la trattativa si possa condurre nei tempi e nei modi giusti. Quindi serve ancora qualche ora di pazienza. Già oggi ci sarà un rilancio da parte della Juventus su Sancio. La proposta che la Juventus ha presentato ieri è la partecipazione sullo stipendio per un quarto quindi circa 5 milioni più un paio di milioni di prestito oneroso, prestito secco magari qualche bonus. Una somma molto inferiore alla doppia cifra per capirci che non soddisfa il Manchester United. Ma è l'inizio di una trattativa che si andrà ad evolvere in queste ore. Ora è chiaro che è una corsa contro il tempo ma è altrettanto vero che la Juventus tutti gli obiettivi principali li ha centrati. Quindi in questa fase la Juventus deve semplicemente comprendere qual è la strada migliore per ottenere la situazione più giusta per portare a casa un giocatore importante che alzerebbe tanto la qualità del reparto offensivo ma che non deve spingere a fare una spesa folle. Bisogna rimanere comunque sulla linea dell'equilibrio che la Juventus ha mantenuto fino a questo momento avendo ragione. Giuntoli ha dalla sua parte la volontà del giocatore che già a gennaio scorso aveva detto sì alla Juventus. Si è già immaginato altre volte con la maglia bianconera addosso e ve l'ho già raccontato in questi mesi. Così come aspettavamo quest'ultima settimana per capire se davvero il Manchester United aprisse alla cessione temporanea del calciatore. Apre. Però bisogna adesso migliorare l'offerta. Come può migliorare l'offerta la Juventus? Sicuramente i bianconeri hanno ancora margine dal risparmio generato dalla cessione di chiesa. Potrebbe non bastare perché dobbiamo sempre ragionare con le cifre all'ordo e i costi azienda obiettivamente sono sempre ben superiori rispetto agli stipendi netti che spesso e volentieri comunichiamo e ci raccontiamo. La Juventus in queste ore potrebbe sbloccare la situazione sancio evitando ogni tipo di concorrenza su rascio finale del mercato con almeno una cessione tra Arthur e Kosic perché questo consentirebbe di abbassare ulteriormente il monte in gaggi e a quel punto per i bianconeri ci sarebbe margine per migliorare definitivamente l'offerta al Manchester United e far crollare il muro. Secondo me in questa fase, si è parlato di Chelsea, secondo me il primo avversario vero della Juventus nella corsa sancio è il Paris Saint Germain che fin qui non si è palesato. L'altro aspetto è che il Manchester United darebbe il sì definitivo al trasferimento di sancio alla Juventus di fronte alla proposta di partecipazione sull'ingaggio per il 40%, magari un 5% in più sotto forma di bonus e come detto un paio di milioni sul prestito oneroso. secondo me è un'operazione che si può portare a termine in una forbice tra 10-11 milioni e 13 al massimo è un qualcosa però che dobbiamo seguire man mano ed è un qualcosa che si andrà ad evolvere in queste ore. Ci sarà il rilancio oggi? Sì, sul margine che la Juve ha dalla cessione di chiesa. Per migliorare definitivamente questa offerta e raggiungere la quota che vi ho raccontato che farebbe crollare subito il muro del Manchester United bisognerebbe fare ancora una cessione. Su queste cessioni dobbiamo fare un po' il punto perché Kosic al momento rifiuta le offerte che ha avuto. Non è convinto di andare alla Fiorentina non è convinto del Southampton che è il club che più si è messo sulle tracce di Kosic negli ultimi giorni. Credo stia facendo una valutazione sulla rabbia saudita. Il problema è che in Arabia Saudita il mercato relativo alla Saudi Pro League chiude il 2 settembre. Questo non fa gioco alla Juventus perché Kosic potrebbe andare via anche a fine mercato in Italia ma la Juventus ha necessità di creare ora del margine per rilanciare su Sancho. L'altro fronte è relativo ad Arthur dove in questo momento il club più vicino sembra il Pauk però obiettivamente negli ultimi giorni sono state tante le proposte evidentemente l'entourage lo sta proponendo alla ricerca di una soluzione per il brasiliano che voleva tornare alla Fiorentina ma la Fiorentina ha avuto altre idee è stato proposto alla Lazio che però ha deciso di non accedere a questo ragionamento si sta cercando una soluzione per Arthur mi pare in questo momento forse Arthur possa essere più facile da piazzare quindi magari la Juventus potrebbe sbloccare la situazione Sancho proprio con la cessione di Arthur però ovviamente non siamo nella fase in cui possiamo dare per scontato una cosa che deve avvenire quindi non mi piace far cronaca e non buttare via le notizie così a effetto l'altra questione che va risolta è relativa a Jalò che al momento non ha una destinazione gradita lui voleva andare alla Roma la Roma ha avuto altre idee si si era palesato anche lo Stoccarda c'è il Besiktas mi pare però in questo momento qua Jalò non si è convinto di cambiare maglia per le ipotesi che si sono presentate quindi è un'altra situazione che dobbiamo seguire fino a margine della chiusura del mercato c'è tempo? sì c'è tanto tempo per la Juventus perché avendo già fatto tutti gli obiettivi principali la Juventus ora non ha fretta deve semplicemente muoversi in maniera strategica come ha fatto fino ad ora e mi pare abbia già dimostrato come poi nel giro di qualche ora si è in grado di sbloccare situazioni molto più complesse rispetto a quella che porterebbe al prestito libero di Sancho quindi equilibrio tanto entusiasmo perché è giusto viverlo in questo momento l'entusiasmo ma non perdiamo di vista quello che è stato fatto perché ritengo l'entusiasmo oggi debba essere relativo al grandissimo colpo che la Juve ha portato a termine credetemi dopo mesi e mesi e mesi di lavoro intenso sotto traccia perché aver portato Copp Miners alla Juventus non è stato per niente facile così come non sono stati facili neanche con Sesao e Nico González ma il colpo Copp Miners è un colpo straordinario e allora per questo motivo vi ripropongo l'arrivo di Copp Miners ieri mattina al G-Medical e anche il grandissimo calore dei tifosi bianconeri in attesa del centrocampista olandese perché ritengo sia la chiusura più giusta per il contenuto di questa mattina rilanciandovi ai prossimi video perché spero di potervi dare delle altre notizie quelle che volete al momento dobbiamo mantenere l'equilibrio e anche tanto entusiasmo ditemi cosa ne pensate nei commenti iscrivetevi al canale interagite like al video insomma fate quello che volete a più tardi a più tardi a più tardi t'hanno liberato finalmente ragazzo a più tardi a più tardi a più tardi a più tardi